Buon Natale, anche se è già passato Vogliamo farvi i nostri auguri Anche perché questo anno è stato molto bello per noi Soprattutto anche nell'ambito del canale Dato che siamo cresciuti molto E ve ne siamo grati per questo Infatti come potete vedere ci sono queste belle animazioni Comunque ragazzi, a parte tutto la scenetta, tutte le cose Vi vorremmo ringraziare anche perché questo anno è stato molto produttivo per noi Siamo riusciti ad arrivare al punto in cui siamo ora E ringraziamo tutti voi perché senza di voi questo non sarebbe successo Giustamente, siamo arrivati addirittura adesso che stiamo registrando il video Cioè qualche giorno prima del 31 dove lo vedrete voi Che abbiamo circa 235 iscritti Quindi veramente non ci immaginavamo così tanti iscritti in così poco tempo Perché veramente quasi due mesi fa ne avevamo meno di 100 E siamo cresciuti veramente velocemente Quindi vi ringraziamo tantissimo Ringraziamo anche tutte quelle persone che commentano sotto i video Perché anche se è ciao, anche se è un malloppo di 800 km Qualsiasi cosa è buona per noi Perché ci fa capire che i nostri video sono visti E che sono visti dal primo all'ultimo minuto E che quindi anche voi avete capito il video e ci dite la vostra Su cosa ne pensate Che sia una cosa bella o che sia una cosa brutta A noi fa sempre piacere E ricevano i vostri commenti Adesso a schermo passeranno i vari iscritti che noi siamo riusciti a reperire Perché di questi 235 in verità dal nostro canale se ne riescono a vedere una ventina E quindi se siete tra questi siete fortunati Oppure se non siete tra questi Vabbè comunque sappiate che ci siete se state vedendo questo video E a fine video ci saranno uno scroll di tutti i commenti Veramente tutti dal primo all'ultimo Che sono stati iscritti sul nostro canale Su ogni nostro video Ragazzi abbiamo tanti video già in mente E molti già fatti che abbiamo Tutti stiamo montando Quindi già sono caricati Che vogliamo portarvi Saranno strani in un certo senso Saranno diversi, saranno innovativi Spero che vi piacciono Perché noi ci stiamo mettendo durante tanto tempo Tanta fatica per portare questi video Originali e diversi dagli altri Quindi spero che piacciono pure a voi Infatti abbiamo una scaletta che fino a Fine gennaio, scusa il gioco di parole È piena di video Quindi almeno due video alla settimana ce li abbiamo Quindi sto facendo questo tutto per voi Inoltre abbiamo visto che i nuovi format Che abbiamo portato sul canale Vi sono abbastanza piaciuti Per esempio il format del disegno Che vi sta aggarbando abbastanza Poi ovviamente ci sono sempre le mie recensioni Che in generale vanno sempre abbastanza bene E addirittura fino alla fine di gennaio Come diceva Francesco Porteremo due video infrasettimanali Oltre alla mia recensione della domenica E quindi diciamo stiamo aumentando un po' La sticella della qualità Insieme alla quantità ovviamente Quindi ancora vi ringraziamo ancora una volta Per tutto quello che avete fatto E vi chiediamo di continuare a sostenerci sempre Ovviamente se avete qualche video da consigliarci Consigliatecelo Perché noi li leggiamo veramente tutti i commenti Dato che non sono molti Però quando ci sono li leggiamo Come per esempio l'idea di creare il video Dei dieci personaggi più amati Che ci avete consigliato voi E noi l'abbiamo fatto Quindi niente Possiamo dire che per noi questi auguri Sono fatti col cuore E niente Noi ci vediamo il prossimo anno Ciao 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 Ciao